Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 27 maggio. Ariete, Marte in un segno amico vi rende attivissimi in campo sociale, vi piace frequentare persone diverse e quindi stringere amicizie nuove di zecca. Toro, la luna positiva riesce a calmarvi, soprattutto in amore, da qualche giorno siete diventati critici nei confronti del partner e c'è qualche discussione di troppo. Gemelli, una pausa dal lavoro sarebbe un tocca sana per i vostri nervi messi a dura prova da qualche problema finanziario o professionale che rischia di mandare all'aria i vostri piani. Cancro, godetevi le grandi emozioni che porta Venere nel vostro segno, accettate un invito, lasciatevi corteggiare, evitando con cura i vostri sbalzi d'umore. Leone, siete alle prese con impegni professionali stressanti che vi impediscono di staccare la spina o semplicemente di rimanere tranquilli. In amore siete al top. Vergine, la luna che in giornata passa nel vostro segno vi regalerà un sabato emozionante in cui tutto sembrerà andare per il verso giusto, soprattutto in amore. Bilancia, non sarete molto concentrati sul lavoro e questo può esporvi a qualche critica da parte delle persone che lavorano al vostro fianco, addirittura da parte di un superiore. Scorpione, una luna che vi permette di comunicare con persone importanti per il lavoro. In questo momento avete bisogno del sostegno di qualcuno per portare a termine i vostri piani. Sagittario, riuscite ad essere antipatici anche quando tutto sembra andare a vostro favore. Non cercate sempre lo scontro in famiglia o con i colleghi di lavoro. Capricorno, il lavoro può darvi davvero delle grandi soddisfazioni. Potete approfittarne per mettervi in evidenza, per ottenere anche un vantaggio economico. Acquario, siete molto apprezzati per la vostra creatività, la capacità di organizzare qualsiasi cosa con la massima accuratezza, ma negli ultimi giorni avete faticato a far fronte agli impegni. Pesci, luna opposta, non sarete di buon umore oggi e dimostrerete nervosismo in qualsiasi circostanza. Solo gli amici saranno in grado di farvi dimenticare i problemi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azzus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azzus. Azzus vi augurano buona fortuna e vi invitano a tutti i nostri spettatori e vi invitano a tutti i nostri spettatori e vi invitano a tutti i nostri spettatori. Grazie. Grazie. Grazie.